Restano stabili ma non gravi le condizioni dell'uomo 54enne, già noto alle forze dell'ordine che nella notte tra sabato e domenica è stato raggiunto da un colpo di pistola alla nuca mentre si trovava nei pressi di un bar nel centralissimo corso Vittorio Emanuele Attrani, un agguato in piena regola che solo per un caso fortuito probabilmente non ha portato all'uccisione dell'uomo. Il 54enne è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Bonomo di Andria. Indagini affidate ai carabinieri che hanno raccolto nell'immediatezza dell'agguato anche alcune dichiarazioni dell'uomo che ha riferito di non sapere chi li abbia sparato. I militari tranesi sono al lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto e per far questo hanno acquisito diverse immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a partire proprio da quelle del bar nei pressi del quale è avvenuto l'agguato. Si cerca l'autore materiale del gesto ma anche le motivazioni e gli inquirenti non escludono nessuna pista compresa quella legata ai precedenti dell'uomo per spaccio di stupefacenti ma anche alla possibilità che l'agguato sia avvenuto al termine di una violenta lite.